C'è una troupe televisiva che si reca in un paesino di montagna perché hanno scoperto che lì molta gente vive più di 100 anni. Allora decidono di intervistare un vecchietto e gli fanno alcune domande. Scusi, per lei qual è stato il giorno più bello della sua vita? E lui? Eh, beh, quando abbiamo perso la pecora. Dopo quattro giorni e quattro notti io e i miei fratelli e parenti può averla trovata, ce l'abbiamo incolata tutti. No, 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 queste cose non si dicono in tv. Censuriamo, censuriamo. E cominciamo. Qual è stato il giorno più bello della sua vita? E lui? Eh, beh, beh, quando abbiamo perso il cane. Dopo quattro giorni e quattro notti io e i miei fratelli e i parenti può averlo trovato, ce l'abbiamo incolato tutti. No, 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 queste cose non si dicono. No, no, censuriamo, censuriamo, censuriamo. Ricominciamo. Cambiamo domanda. Mi dice qual è stato il giorno più brutto della sua vita? Eh, beh, quando mi sono perso io. No